Con 15 ore di lavoro si riescono a portare a casa circa 350 euro, non tanti ma sufficienti. Tina non si lamentava ma quando ha visto in quella casa dei sopprusi fino ad arrivare a violenze fisiche, dice non ci ha visto più, non ha voluto girare la testa dall'altra parte e così ha segnalato quanto avveniva in quella famiglia alla cooperativa per la quale lavorava. Le ore sono diventate 13, una diminuzione non indifferente, non le ha mai più recuperate. Parte dal 2016, finché sono stata la verità con quella cooperativa le ore non sono state integrate perché attualmente la situazione è andata però dopo tante lotte via via migliorando. Oggi però un giudice dice che aveva ragione insieme ad una sua collega perché il rischio di impresa, il datore di lavoro non può farlo ricadere sui lavoratori. La funzione pubblica della CGL di Taranto che ha seguito questa vicenda continua adesso a lavorare però perché nel settore dell'assistenza domiciliare far valere i propri diritti risulta ancora difficile. L'avvocato parla di una sentenza che può essere definita storica. Noi ritiriamo storica questa sentenza per il settore in cui è intervenuta la sentenza, ovvero il settore di tutta l'assistenza integrata, soprattutto domiciliare, servizi A, di SAD. Perché innanzitutto parliamo di lavoratori molto fragili, lavoratori che lavorano presso il domicilio dell'utente quindi non lavorano tutti insieme tra di loro e ciò capite bene che attenua anche la loro forza nei confronti ai datori di lavoro. Il terzo settore, l'ambito in cui ci troviamo e gestiamo tutta la vicenda contrattuale, non ultima la sentenza di cui ne condividiamo le risultanze con gli organi di stampa. È un settore fragile per una serie di ragioni. Intanto perché è un settore in appalto pubblico, gestito dal pubblico, ma con chiaramente rilievi di carattere privato.